Musica Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qui come Velox Sono qui ragazzi E portarvi un nuovo episodio delle sfide a scommessa Su Call of Duty Black Ops ragazzi Intanto si è impallata completamente la console Ottimo, fantastico E sapete qual è il bello? Che questa verità che state vedendo È a scommessa altissima Cioè in pratica ho due tacche Fantastico Praticamente stiamo facendo l'età della pietra Su Mani Bucate Che serve praticamente la modalità Dove si scommette di più in tutto il gioco E si scommette tantissimo raga Però io sai due Ok ho tre tacche ora Si scommette tantissimo raga Si scommette Madonna Si scommette 10.000, 20.000 Adesso non ricordo esattamente In pratica la metà o forse anche di più Di quello che ho io in totale Cioè sono scommesse illegalissime E in pratica è appunto l'età della pietra Quindi si gioca con No raga, no raga Però come Cioè io non posso scommettere i soldoni In questo No raga io non posso scommettere in questo modo Che non entrano le coltellate Su chiamelo Coltomac ragazzi Umilia la gente Quindi in pratica umilia Ma raga ma Lo posso uccidere? Umiliandoli Li riportate a zero E l'obiettivo è in 4 minuti appunto Essere tra i primi Il problema di questa modalità Che tu puoi essere primo Sino alla fine E poi puoi rimanere Puoi essere umiliato L'ultimo o secondo E non è Ma io sto rompendo il cazzo Di questa storia Che non entrano Le coltellate Mori in merda No 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 Bisogna stare assolutamente attenti Raga perché un tomahawk Oh mio dio Ma perché? Non riesco a coltellare Perché ho due tacche Raga se vinco sta cosa Vinco i soldoni Con due tacche È leggendario Ve lo dico Fai l'errore di Pezzo di merda Vi dico È leggendario veramente Se ce la faccio raga Oddio Cioè praticamente parte dopo due secondi E sono primo Incredibilmente Dicevo In pratica il vincitore Si becca un botto Di soldi Cioè se vinco Probabilmente Triplico Ho raddoppi Non ricordo bene Quanto è che si vince E quanto è che ho io In questo momento Ma tu sai che Questo ha il tomahawk cane Tu sai che mi faccio Veramente un botto di Mori in merda Un botto di soldi raga Tantissimi Dammi il coltello Ed è tutto così raga E tada la pietà Perché si gioca con Semplici tomahawk Oh Umiliato Mi ha umiliato Ma vaffanculo Pezzo di merda Ho umiliato uno E mi ha umiliato lui E dobbiamo umiliare Rams raga Che è primo Se non lo prendiamo mai quello Mancano due minuti e quaranta Se perdo Non è una bella cosa Immagino che sia questo Rams Cerchiamo di capirlo dal nome Chi è questo È lui Oh 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 Mi dispiace signor Rams Qualcuno adesso è senza soldi Oh 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 E siamo primi così Vedete raga Ci vuole un attimo Cioè Tiri un'umiliazione a uno Lo scopi Ecco è Rams quello che si vuole vendicare Rams Ormai l'hai usato il tuo tomahawk Mi dispiace Mi dispiace ma non è ora Non è il momento per umiliarmi Rams Non posso permettermi di dare le spalle a nessuno Perché se mi tirano il tomahawk E mi ha Ecco questo al tomahawk l'ha tirato però Perché è un babbeo Puoi anche uccidermi L'iparte che non mi umili Va bene L'iparte che non mi umili Bastardi Ragazzi manca un minuto e cinquanta Un minuto e cinquanta Devo assolutamente vincere Mi faccio i big money Ma avevo tanti raga Avevo tantissimi Questa è una delle modalità più difficili Il motivo per cui sto laggando Ovvero che non trova le lobby Perché non ci gioca nessuno Perché si scommette troppo Cioè come Bastardo Rams mi ha superato Ragazzi siamo in tre Oddio non ci credo Stanno quittando tutti Non riesco È veramente difficile giocare Con una connessione così in marcia Raga Cioè è proprio impossibile Non difficile Umiliato su chiamalo Madonna Rams Cosa stava rischiando Comunque siamo secondi E quello ormai è proprio lontano Anni luce No raga È impossibile Cioè raga È una di quelle cose Veramente che va oltre La mia possibilità Lo devo azzerare Devo assolutamente Umiliarlo raga Ce la devo fare Umiliato su chiamalo Rams Mamma mia ce la fa Raga 27 secondi Sapete che faccio ora Io scappo ora Scappo per tutto il tempo Sapete che faccio Scappo Umiliato anche te Merda Tutti a zero raga Tutti a zero 18 secondi Oddio No Mi ha sparato davanti Pezzo di merda Via 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 no No c'è lo dietro raga Non mi prenderete mai Mai No però aspetta Se lo killa un'altra volta Mi supera Però mancano tre secondi Non può farcela Un secondo Un secondo E va a vincere ragazzi Con due tacche Va a vincere Insomma neanche il pad Mamma mia quanti soldi Mi son fatto raga Quanti soldi Quanti soldi 25 mila Voi non capite Sono troppi Cioè due Due partite del genere Mi sblocco una emetica Oro per un'arma Mi ha rotto proprio i coglioni Devo essere sincero Raga Mamma mia Così 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 Mi è piaciuta Ora vediamo Cosa riusciamo a fare In questa Qua il primo posto Si becca A 6 per 24 mila No questa È raddoppiata Raga mi sa Qua la scompessa Mi sa che abbiamo raddoppiato Quindi il primo Si becca a 60 mila Tantissimo Tantissimo Se ho due tacche A questo giro Bestemmio Oh ne ho tre A quanto pare Ne ho tre Vedremo Vabbè raga Su un yuktan È molto complicato Secondo me Non vinco raga Ve lo dico Però abbiamo vinto Prima quindi Mi accontento Ecco Allora la balestra Levo subito Che mi fa proprio vomitare La balestra Voglio essere un po' Concentrato ragazzo Giro perché Madonna no No è inutilizzabile Il coltello della balestra È proprio inutilizzabile Secondo me Il modo migliore Oh cazzo Gli ho fatto il pelo Il modo migliore È giocare Così raga Proprio Puliti così raga Col col coltello E si Si accoltella normalmente Oh wow Lo sto per prendere Cazzo questo scappa Cazzo di tiri Bastardo Mamma mia raga Ste accoltellate Sono illegali In un faccia a faccia Col coltello Perderò sempre Perché ho troppo Una condizione di merda Rispetto a questi Però ti umilio Pippa Dammi il coltello Dammi il tomahoccozzo E vabbè Poi C'è da dire Che quando c'è la balestra Ci metti un'ora A switchare Quindi è tutto molto lento Per quello vi dico Che secondo me Bisognerebbe giocare Solo con questo Che se gioco solo Con questo Questo ha rischiato Grosso raga Ha rischiato Grossissimo Ciao Bastardo No Siamo quarti Comunque raga Mantenemo questa Quarta posizione E poi alla fine Magari tentiamo Di umiliare qualcuno Oddio Mi ha fatto il pelo Non l'ho preso Non l'ho preso Siamo quinti Non sta andando benissimo A sto giro Però Sapete benissimo Che tanto Raga quanto stanno rischiando Alla fine Solo alla fine Si vede realmente Chi ha vinto C'è chi Oh cazzo Chi vince Chi no Merda Merda Oddio Che devasto L'ha messo coltello Questo mi umilia Lo so No Sate che faccio No raga Cazzo Che nervoso Sono straconcentrato Non so se si vede Ma Questa è molto più difficile Raga Di quella di prima A parte che questi Sono un po' più fortini Vedo Quanto stai rischiando Me l'ho attaccata Siamo sempre terzi Ma teniamo Questa terza Posizione Mi ha umiliato Mi ha umiliato Raga Mi ha umiliato Siamo quinti Quinti Devo umiliare tutti ora Se voglio Riprendermi Tipo lui Subito così Mancano due minuti e ventisei No Raga Madonna Secondo me la perdiamo brutalmente Ve l'ho detto Però che ci devo fare Su via Io mi sono impegnato Questo lo umiliamo No Lo uccidiamo e basta No me le rubano Il problema È che giocando solo col coltello Ti da Mi hanno di nuovo umiliato Raga No Sian sesti Che sfiga È questa la merda Tu puoi fare un botto di kill Ma se poi ti umiliano Ma che cambia qualcosa Grande Andiamo avanti Ancora Oh mi avete rotto proprio il cazzo Dopo vi segnalo tutti i bastardi Se c'essi tu umiliano Ragazzi Sto facendo 13 kill Che comunque mi stessero Quello con più kill di tutti Quest'ora Merda 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 Umiliato Ragazzi mi stanno umiliando A manetta Non ho neanche fatto un punto Ora Ora gioco solo per umiliarvi Vi giuro Gioco solo Per umiliarvi Solo per questo Uno Questo era il primo Madonna Ragazzi mi vedrete E penserete che magari Sono un leso Tipo Ma vi giuro che è lentissimo A fare le cose Cioè È proprio lento Ma non so se è per la connessione O se Proprio Il gioco che è così lento A cambiare le armi E tutto Ma ci mette un anno Ogni volta Uno Due Let's go Quanto siamo quarti Non è male una quarta posizione Per ora Manca un bel po' ancora Cioè un bel po' no Però Siamo terzi Perché uno è stato umiliato Raga Muori Se riuscissi a prendere Un tomo Oh cazzo Oh cazzo Madonna Non lo prende Muori Sempre terzi Raga E qua rimaniamo terzi Mi sa Qua rimaniamo terzi Sapete che mi sa Che il primo Sta camperando sopra Quella casa Mi sa Che Oddio Muori Raga Siamo secondi Girati Siamo sempre secondi Mi hanno umiliato Mi hanno umiliato A un secondo Dalla fine Ho fatto 22 kill E ho perso Un botto di soldi Tantissimi Tutti li ho persi Va bene raga Va bene Abbiamo vinto la prima Seconda C'è un'umiliato Se aspetti Un nuovo Il pad Adesso Lo lancio Spero che Se questo video Vi sia piaciuto Fatevi sapere Se ne volete Degli altri Io spero appunto Di avervi divertito E noi ci becchiamo Ragazzi Senceramente Domani Alle 3 E ci becchiamo Novi Bella